Oggi mi trovo a Ilo, alle Hawaii, il paradiso tra fauna, flora e pick-up rialzati. Sì, perché quasi tutti i veicoli sulla strada sono Toyota Tacoma, Dodge Ram, Ford F-150, Toyota Tundra, Ford Runner e per di più rialzati. È il traffico più strano ma figo che abbiamo mai visto dopo quello di Dubai. Ma secondo voi perché girano così? Sarà per il flex? Per portare le barche in acqua per guidare più agilmente sulle spiagge o tutte queste insieme? E voi vorreste mai un pick-up rialzato?